Siamo in diretta dalla spiaggia della Pule Hotel Corriano Calabro e stiamo per salutare Ilenia Sì, ciao! Ciao Ilenia, Ilenia è stata con noi una settimana credo Otto giorni Quanto? Otto giorni Bene, quindi una vacanza un po' più lunghetta delle altre E vogliamo chiederti un tuo parere su questi giorni qui alla Pule Hotel Allora guarda, è stata una settimana fantastica, ci siamo divertiti tantissimo Mi dispiace tanto andare via Anche grazie agli animatori perché sono stati veramente bravi Grazie Però purtroppo finisce E quindi consiglieresti la Pule Hotel Corriano Calabro a qualcun altro? Sì, venite pure, venite, venite perché c'è tanto divertimento Si mangia bene Si mangia bene, si sta benissimo in tutto e per tutto Bene, grazie Ilenia e arrivederci alla prossima vacanza Ok, ciao Ciao